Allora siamo qui con Giornatura Iello e Valentina Brombetta, che sono preparatissimi di questo momento delle giornate del Gino, ma che c'è anche il momento culinario. Allora vogliamo fare i complimenti a Sorrento Panas, veramente su se è eccezionale, sia in sala che per la Sicilia. Allora in sala quante persone c'erano? Secondo me oggi abbiamo dato più di un prato, abbiamo dato 750 persone, qui abbiamo fatto intorno alle 150 persone, Giulia a Fresco a 320 persone, quindi diciamo avranno mangiato un totale di mille persone e qualcosa in più. Con 30-40 giorni in più? No, qualcosa in più perché in queste giornate particolari ci sono anche più persone extra che ci sono andate a mangiare a mangiare. Sorrento Panas sta crescendo da un punto di riferimento, da un punto di riferimento in particolare alla grado. Allora cucina, allora su cosa hai puntato? Diciamo, a tutti i prodotti erano bene. Sì, abbiamo puntato sui nostri prodotti, sulla ciocchia, senza squadra, senza squadra, senza squadra, senza squadra, tu vuoi avere la prende con me? No, abbiamo visto che ecco, la sorpresa è quello che è un grande albergo e comunque ha fatto una grande qualità. Questa è veramente la cosa che prodotte sui nostri prodotti. E pure i dolci erano buoni. E non ci viene il pasticciere, il pasticciere sta a Girls'Mau, a tutti i prodotti, a tutti i prodotti, a tutti i prodotti. Perché non è un'idea successiva dove ci sono, vogliamo dire anche quei successi qua? Ok, ora ci siamo trovati. Grazie.